allora velocemente soltanto chi sono paolo pisino il trading per tutti.com è il mio blog caratteristica del mio blog è il fatto di avere un diario live certificato e avatrade diciamo che come da sua politica chiaramente appoggia solo trade mi confermi manuele che fanno trading davvero quindi non il formatore e basta ed è una cosa sicuramente un po molto importante e cliccando su questo banner potrete accedere al diario vedrete tutte quelle che sono le le operatività voglio parlarvi velocemente di una promozione che c'è in accordo con avatrade se quello che vedrete questa sera vi piacerà potrete sfruttarlo due mesi di corso completamente gratuiti oppure 300 euro di sconto sul corso i due mesi chiaramente per chi decide di abbonarsi gratuitamente a due mesi di corso invece lo sconto di 300 euro sul corso annuale sono corsi particolari perché io come caratteristica ho quella di tenere programmi esclusivamente dal vivo programmi quotidiani quindi tutte le sere delle 22 alle 23 c'è la trading room serale con cui mi collego con i miei corsisti condivido il mio video il mio audio interagiscono tramite chat i corsisti e poi ho anche la condivisione naturalmente a titolo didattico di tutta quella che la mia operatività una volta alla settimana tengo webinar di approfondimento c'è una chat di gruppo whatsapp skype che è sempre aperta corso annuale prevede 300 euro di sconto dimmi ok il corso annuale prevede anche 15 lezioni individuali one to one direttamente con me dove approfondire quelle che sono le proprie argomentazioni la trading room serale in questo caso va dalle 23 alle 24 e la particolarità è quella di avere microfoni aperti tutti quanti fino a chiaramente quando i numeri lo permetteranno e anche la condivisione dei monitor è istantanea con tutti i corsisti in modo tale che si possono fin da subito eventualmente correggere eventuali dubbi e far proprio fare analisi ai miei corsisti e poter quindi valutare nel istantaneamente basta cliccare su questo bannerino si finirà direttamente sulla maschera per poter aprire il conto reale con avatrade un conto a partire da 100 euro se si carica ok ho la linea un po lenta una volta fatto un eseguito si potrà tranquillamente accedere sia ai due mesi gratuiti di corso che naturalmente ai 300 euro di sconto invece per quanto riguarda il programma annuale vuoi passare il link bravo grazie emanuele guarda giusto appunto facevo proprio quello ho accopiato il link diretto per l'offerta quindi il link di aperturare il conto che è già associato con l'offerta particolare ormai nell'era tecnologica si sente bene paolo si si vai tranquillo nell'era tecnologica ormai è tutto è tutto tecnologicamente già interfacciato il profano aperto è un'ottima cosa paolo purtroppo se non la possiamo fare per l'alta frequenza renderebbe tutto con un caos di sottofondo tremendo io direi di lasciare la parte diciamo di marketing di promozione commerciale passare alla sostanza del webinar di questa sera che è quella che ovviamente interessa anche molto di più rispetto alla nostra marchetta assolutamente che comunque è un'offerta una promozione che secondo me è molto vantaggiosa al di là del fatto che comunque come ricordato tu noi di Ava in uno specifico i webinar che tengo io grazie ovviamente al supporto di Ava che sono anche diversi e non comprendono solo questo specifico sull'analisi ciclica ma anche diversi altri webinar sull'aspetto macroeconomico analisi fondamentali eccetera eccetera sono sempre fatti in collaborazione con persone che fanno trading veramente quindi scordatevi di vedere persone che si limitano ad insegnare anche perché ci sono dei detti anche abbastanza esplicativi su certe cose paolo ti lascio la parola perfetto allora come sicuramente avrete capito da il titolo io tendenzialmente lavoro con l'analisi ciclica chiaramente abbinata all'analisi tecnica perché sono dell'idea che oltre all'asse dei prezzi si debba utilizzare anche l'asse del tempo per poter avere un quadro un po' più ampio di quello che è il mercato allora che cos'è la teoria dei cicli per ciclo di mercato si intende un movimento che nel tempo tende a ripetersi in maniera più o meno uguale un ciclo di mercato è calcolato identificando minimi importanti di prezzo che si ripetono con regolarità e distano scusatemi indicativamente un numero di candele o barre mediamente simile diciamo allora io qui ho diviso quello che dovrebbe essere un ciclo ideale che praticamente non si trova mai o comunque diciamo abbastanza raramente e invece un ciclo reale un ciclo ideale dovrebbe essere sostanzialmente un ciclo in questo caso ho fatto un esempio di 11 bar che ha un primo minimo poi percorre 11 barre e tutti i cicli successivi saranno identici o meglio dovrebbero essere identici quindi ci ritroveremo con una forma fatta in questa maniera in realtà i cicli non sono chiaramente tutti identici vanno regolati di volta in volta in funzione del mercato in cui ci si trova facciamo un esempio in questo caso il primo ciclo è stato di 9 barre avremo magari un secondo ciclo di 11 barre un terzo ciclo di 18 barre ma possiamo considerare assolutamente una ciclicità tutto sommato regolare tendenzialmente si tende a fare una media di quelli che sono i cicli che andiamo ad analizzare ovvio se ci troviamo un ciclo di 9 barre e quello successivo è di 36 barre chiaramente non si può parlare di stesso ciclo ma bisogna andare all'interno di esso a trovare sicuramente dei cicli più simili a quello precedente cicli superiori e cicli inferiori premetto che adesso ci saranno poche slide perché io tendenzialmente preferisco lavorare direttamente poi sui grafici farete poi le domande a cui ben volentieri darò delle risposte allora dicevo cicli superiori e cicli inferiori ogni ciclo che prendiamo in esame è contenuto da un ciclo superiore questo fenomeno è paragonabile a una matrioska in linea teorica i cicli superiori sono infiniti nel loro numero in pratica ovviamente non è possibile applicare questa teoria è una buona regola identificare almeno tre cicli superiori a quello che si intende lavorare qui abbiamo un disegno di che cosa intendo abbiamo un ciclo superiore, due cicli inferiori e due sottocicli del ciclo inferiore quindi sostanzialmente uno, due e tre cicli all'interno uno dell'altro operare in tendenza con il ciclo superiore che cosa vuol dire? se decidiamo di operare ad esempio all'interno del ciclo verde la nostra operatività dovrà tenere conto del ciclo superiore quindi avremo una forte tendenza longa quando il ciclo verde, quello rosso e quello giallo saranno entrambi nella fase di rialzo e avremo invece un ritracciamento quando il ciclo verde sarà al ribasso e quello rosso e quello giallo al rialzo e avremo un ritracciamento più profondo quando il ciclo verde e rosso saranno al ribasso e il ciclo giallo sarà nella fase di lateralità ovviamente stessa cosa ce l'avremo in una fase poi al ribasso la possiamo tradurre in questa maniera con quella che viene definita, quantomeno io la chiamo la configurazione ad M ossia tre cicli inglobati uno all'interno dell'altro formano questa figura come abbiamo visto nell'immagine precedente ci ritroviamo praticamente un ciclo giallo due cicli rossi e due cicli verdi all'interno di quello rosso quindi quattro cicli verdi totali in maniera diciamo ideale possiamo dividere il ciclo in questa maniera che cosa vuol dire? nella prima parte di ciclo andremo alla ricerca di operazioni al rialzo nella seconda parte di ciclo andremo alla ricerca di operazioni al ribasso si può vedere molto bene in questo caso qui abbiamo il ciclo verde, il ciclo rosso e il ciclo giallo che sono tutti quanti tendenti al rialzo quindi ho segnato tre cicli al rialzo quindi avremo una teorica ideale spinta rialzista sicuramente molto forte poi ci ritroviamo il ciclo verde che tende al ribasso il ciclo rosso e il ciclo giallo che invece continuano a spingere verso l'alto quindi avremo un piccolo ritracciamento dopodiché ci ritroveremo un ciclo verde, un ciclo giallo che saranno al rialzo, un ciclo rosso e al ribasso quindi avremo ancora una spinta quando avremo anche poi il ciclo verde che tenderà al ribasso ecco che avremo un ritracciamento sicuramente più importante perché il ciclo superiore giallo entrerà in una fase diciamo di lateralità quindi sostanzialmente nella fase di passaggio tra la componente rialzista quella ribassista del ciclo e chiaramente in maniera speculare ma contraria avremo le indicazioni per un ribasso quindi ci ritroveremo con una spinta diciamo di media forza perché avremo due cicli che ci diranno ribasso che saranno il ciclo giallo e il ciclo verde poi avremo invece un piccolo ritracciamento per quale motivo? perché avremo ovviamente un ciclo verde al rialzo due cicli invece quello giallo e quello rosso al ribasso e poi la fase finale quindi la spinta finale di forte ribasso perché avremo tutti i tre cicli che noi prendiamo in esame che saranno verso il ribasso fino qua vi è chiaro? c'è qualche domanda per diciamo avere un chiarimento su questo concetto di base che è molto importante? no adesso nessuna domanda solo complimenti quindi non voglio leggerti ok perfetto allora vado avanti questo che vediamo naturalmente è il ciclo ideale che cosa vuol dire? un ciclo ideale prendo la lavagnetta che faccio un disegnino che sicuramente rasenterà l'oscenità però ci proviamo un ciclo ideale è in un mercato perfettamente orizzontale quindi che cosa vuol dire? in un mercato di lateralità tanto per intenderci potremmo trovare quello che per noi è il ciclo ideale però abbiamo ovviamente dei momenti in cui il mercato è in trend che sia al rialzo sia al ribasso quella che è la teoria base dei cicli non cambia a volte si fa un po' di fatica a comprendere come un ciclo debba per forza nascere con un minimo e diciamo morire se si può dire o concludersi con un altro minimo perché quando siamo in un trend magari al ribasso tendenzialmente si tende a guardare più i massimi anziché i minimi del mercato in questo caso bisogna cambiare un attimino quello che è la propria abitudine nell'osservare un grafico ma poi ripeto lo andremo a vedere sicuramente bene poi sulla piattaforma quindi in un ipotetico trend a rialzo ci ritroveremo sempre a dover cercare quelli che sono i minimi del mercato quindi avremo un minimo per esempio posizionato in questo punto un altro minimo un altro minimo un altro minimo un altro minimo che saranno naturalmente al rialzo e di conseguenza saremo comunque in grado di andare a tracciare i nostri cicli ipoteticamente un mercato potrebbe essere ops facciamo così potrebbe avere potrebbe compiere dei movimenti del genere ok quindi avere sempre comunque dei massimi e dei minimi noi dovremo sempre cercare solo e esclusivamente minimi importanti stessa cosa in un trend ribassista è qui che si fa un po' più di fatica normalmente per identificare un ciclo perché dovremo andare a cercare sempre minimi importanti quindi andremo a prendere il minimo più alto che avremo a disposizione dovremo cercare il minimo più basso importante che avremo a disposizione e in maniera diciamo ipotetica dovremo trovare un mercato che farà un movimento magari del genere oppure potrebbe anche non ritracciare nel modo più assoluto e fare un movimento del genere allora ci chiedono se riusciamo a fare un esempio di questa cosa assolutamente sì ci arrivavo adesso in maniera diciamo successivamente ma nessun problema la possiamo fare anche tranquillamente subito ho sbagliato perché ce l'abbiamo qui allora prendiamo un grafico andiamo a pulire il grafico pulisci ok allora qui ad esempio siamo in un trend al rialzo prendiamo questa fase qui che è sicuramente un buon trend al rialzo tracciamo una trend line così lo riusciamo a identificare bene e ci mettiamo in questa maniera ok lo si può vedere in questo trend al rialzo che abbiamo dei minimi importanti i minimi importanti possono essere questo qui può essere questo qui adesso poi vi spiegherò anche come andarli a identificare può essere questo qui una cosa molto semplice è quella ad occhio e qui ci va un attimino di allenamento di pratica è di riuscire a identificare dei minimi che più o meno ad occhio abbiano la stessa distanza se noi andiamo a misurare ad esempio tra questo e questo abbiamo circa 86 candele tra questo e questo ne abbiamo 97 quindi indicativamente ci siamo da un punto di vista di minimi basta poi tracciare eventualmente delle piccole linee verticali sulla metatrader ma poi vi farò vedere una piattaforma gratuita da utilizzare come analisi di base poi il tutto chiaramente si svolgerà sulla metatrader quindi se andiamo a tracciare poi delle linee verticali vedete che indicativamente ci sono ma in un trend long è facile in un trend short è un po' più complicato allora andiamo a cercare se abbiamo una fase di ribasso da poter identificare ovviamente sempre la nostra trend line sui massimi perché non è che da un punto di vista dell'analisi tecnica cambia qualcosa però tracciate una volta una trend line ecco che riusciamo a vedere bene quelli che possono essere minimi importanti se misuriamo ad esempio questo e questo abbiamo 70 bar tra questo e questo ne abbiamo 72 qui abbiamo una regolarità sicuramente molto importante e molto evidente ok del del prezzo adesso andremo a vedere perché dobbiamo comunque operare poi in favore di trend a prescindere dell'utilizzo dell'analisi tecnica tanto per dare un esempio se siamo in una fase a ribasso io non mi vado a cercare tutti i segnali long che eventualmente un'analisi tecnica mi può dare perché ciclicamente sono in una fase a rialzo tendo ad andare a scegliere più che altro posizione a ribasso anche se comunque l'analisi ciclica permette di andare a cercare anche posizioni rialziste poi faremo qualche esempio eventualmente ve lo ricordate perché ho la memoria un po' un po' ballerina e facilmente mi vado a dimenticare è chiaro in questo caso come identificare sulla metatrader ma vi farò vedere come vederli meglio sull'altra piattaforma se ti danno una risposta se no faccio scusami per adesso non ci sono domande comunque ci sono io a ricordarti tutte queste cose ok perfetto grazie perfetto perfetto quindi qui abbiamo appunto in maniera molto schematica come andare a individuare un ciclo a rialzo e un ciclo al ribasso perché ho utilizzato degli archi perché con questa piattaforma che è TradingView che adesso andremo a vedere è qui che dovrete fare le vostre prime analisi cicliche per riuscire ad individuare quelli che sono sostanzialmente i cicli superiori e i cicli inferiori per poi andare a lavorare sulla metatrader e vi darò poi verso la fine dell'intervento anche uno strumento da poter applicare sulla metatrader anche fin da subito da questa sera per avere dei segnali di ingresso al mercato e chiaramente a favore di ciclo la piattaforma in questione è questa è TradingView.com non è legata a nessun broker quindi chiunque la può utilizzare è molto semplice da cancelliamo che questo è un esempio che facciamo dopo da utilizzare allora qui a sinistra avrete un menu quello che voi dovrete cercare inizialmente sarà così dovrete andare nel quarto menu a partire dall'alto quello sotto alle due A cliccate qui e andate a scegliere cicli temporali qui si aprirà poi un piccolo vedrete cambierà un piccolo menu ci cliccate sopra e andate a identificare sostanzialmente i cicli di mercato ad esempio ho preso il petrolio perché è molto regolare in che maniera ho cliccato prenderemo il nostro ciclo che io mi sono spostato qui come menu andremo a tracciare se si riesce inizialmente subito un ciclo superiore ovviamente il ciclo che andiamo a tracciare dovrà coincidere il più possibile con dei minimi ok i minimi devono essere più possibili coincidenti nel mercato non bisogna impazzire a cercare il diciamo il giorno esatto o il minuto esatto o l'ora esatta a seconda del time frame che guardate perché non è possibile ovvio che se abbiamo un minimo ciclico qua e ci ritroviamo il minimo del prezzo che è qui allora chiaramente non ci siamo però in questo caso se ne andiamo a spostare vedete che abbiamo tutto sommato una coincidenza quindi qua un minimo c'è qui un minimo c'è qua un minimo non tanto ma siamo parecchio indietro perché si parla del 1987 e sicuramente non andiamo a tradare 30 anni fa il mercato oggi nel senso non vado a vedere quello che è successo 30 anni fa con un mercato invece attuale vado poi a prendere dei cicli inferiori in questo caso io me li sono creati naturalmente qui il mio menu per poterlo lavorare in maniera un pochettino più tranquilla e li vado a cercare anche in questo caso a cercare dei minimi che siano il più possibile coincidenti scusate vado a cambiare il colore perché ho un'abitudine ciclo superiore rosso quello subito inferiore lo vado a tracciare rosso vedete che anche in questo caso abbiamo una precisione notevole quindi abbiamo questo minimo che è del 29 ottobre del 2001 abbiamo un altro minimo che è del 1 dicembre del 2008 e poi abbiamo i minimi molto vicini al prezzo attuale che sono del 18 gennaio 2016 vedete che anche tutto sommato possiamo identificare tranquillamente un ciclo superiore e due cicli intermedi vado poi ancora a tracciare altri minimi cambio come sempre il colore e io lo faccio poi normalmente verde e vado anche in questo caso a cercare dei minimi che possono essere il più possibili e diciamo affidabili quindi tendenzialmente mi sposto verso l'alto oppure il trucchetto classico qual è? quello di prendere la X quindi andare a creare i nostri cicli e con la linea verticale cercare se in realtà i minimi sono presenti o no e sicuramente qua li vediamo qui abbiamo un inizio una fine di un ciclo vedete che il minimo sicuramente c'è beh questo è un minimo molto importante questo è un minimo importante un minimo importante e un minimo importante quando è che abbiamo una probabilità di diciamo avere maggiore successo nel nostro trade quando abbiamo tanti cicli o che iniziano o che finiscono tipo in questo caso dove ci ritroviamo un ciclo addirittura molto molto ampio 5194 giorni che sono che sono 14 anni che mai traderemo abbiamo 2 cicli 7 anni 2 cicli 3 anni e mezzo e qui probabilmente possiamo andare anche a tracciare poi dei cicli ancora più piccolini quindi dei sottocicli andiamo a vedere se riusciamo a tracciarli poi li andiamo a selezionare bene chiaramente su un time frame più piccolino vedete che io l'analisi grande la faccio sul settimanale per avere più grafico a disposizione ecco guardate qua un minimo ce lo abbiamo un minimo ce lo abbiamo minimo ce lo abbiamo un bel minimo qui ce lo abbiamo quindi siamo riusciti a creare anche dei cicli naturalmente più piccolini che poi sono quelli che tendenzialmente noi lavoriamo voi tenete conto che la mia operatività normalmente si basa cioè va ad applicarsi su quelli che sono cicli che vanno da un anno a massimo due anni perché poi adesso vedrete dividendoli avremo un'operatività più su il tempo attuale ovviamente questo grafico qua l'avevo guardato precedentemente io gli studi ce l'ho già tutti fatti ho cercato di prendere un grafico il più preciso possibile per farvi vedere qual è il metodo da utilizzare per tracciare i cicli in una situazione come questa dove abbiamo Demi Paolo ti faccio anche un'annotazione in senso per me ti abbiamo hai anche già risposto visto che comunque c'è la ciclicità futura ci chiedeva se tracciamo i cicli soltanto sui grafici già compiuti quindi andiamo a creare un'analisi grafica solo sul grafico che già c'è quindi che serve poco no lo andiamo a fare per andare a creare i presupposti per poi andare a fare un'analisi ciclica sui periodi successivi adesso esatto comprendi anche questo piccolo aspetto esplicativo nelle fasi successive ovvio allora noi per poter avere un'idea di che cosa succederà dopo dobbiamo per forza analizzare un movimento ciclico precedente essendo ciclico abbiamo la probabilità che se il mercato questa è una classica domanda ci sta ma è più di analisi tecnica che diciamo di analisi ciclica perché l'analisi tecnica guarda nel passato ma non ti può dire che cosa probabilmente o meglio dovremmo aspettarci dal futuro invece il ciclo in quanto tale tende a ripetersi nel futuro quindi se io vado ad analizzare un ciclo quello dopo che mi devo aspettare è grosso modo uguale a quello precedente e lo vedete bene qui qui abbiamo avuto cicli di questa dimensione e noi andremo poi a lavorare qua che cosa vuol dire in questa fase cerchiamo operazioni a rialzo se noi teniamo buoni i tre cicli che vi dicevo vedete che siamo adesso in una situazione sul petrolio ma poi la vedremo sul grafico dove potremmo quasi andare a cercare cioè aspettarci comunque una flessione da parte del petrolio perché dovremmo avere una chiusura ciclica di questo ciclo più piccolino che come ben ricorderete probabilmente vede due cicli superiore a rialzo un ciclo inferiore a ribasso quindi potremmo aspettarci un movimento del genere anzi lo andiamo a costruire prendiamo come esempio questa componente ciclica qua e come vedete il prezzo non c'è ancora che cosa ci potremmo aspettare da parte del prezzo un movimento del genere prendiamo un colore che magari non abbiamo proviamo col verde se si vede ci potremmo aspettare una fase di rialzo una fase di ribasso una fase di rialzo una fase di ribasso anzi lo faccio solo sui tre perché stavo andando oltre rialzo ribasso rialzo ribasso rialzo ribasso rialzo ribasso ecco che rispondo alla domanda che ha fatto l'ospite che abbiamo qua questa sera perché come vedete nel futuro veramente qua stiamo andando in che maniera dobbiamo lavorare chiaramente concordi con quella che è l'analisi tecnica ovviamente se sono in un trend al rialzo non è che mi vado a cercare tutte posizioni al ribasso quando il ciclo è piccolino mi dice che dobbiamo andare short o probabilmente non andrò a cercare delle operazioni a rialzo in quel momento perché mi potrei aspettare un ritracciamento da parte del mercato oppure se abituati ad utilizzare una media mobile e una trendline se siamo molto distanti da una media mobile e da una trendline possiamo anche andare in questo caso contro trend poi vi farò vedere comunque come abbinare l'analisi ciclica all'utilizzo di supporto e resistenze ovviamente il tempo qui è poco per poter parlare in maniera approfondita dell'operatività ma lo vedremo sicuramente in successivi appuntamenti perché comunque è un argomento abbastanza ricco di contenuti quello dell'analisi ciclica credo di avere risposto alla domanda della persona che appunto ha giustamente posto questo dubbio una volta ci chiede anche un'altra cosa ci chiede se probabilmente ci fanno una notazione probabilmente questo tipo di analisi è adatto alle commodities e alle valute principalmente sì ma principalmente nasce per gli indici invece indici azioni sono molto ma molto più precise rispetto alle valute alle commodity per il semplice fatto che il mercato apre lunedì e chiude il venerdì non abbiamo la rottura di scatole della domenica che soprattutto nel forex e anche nelle commodity tende a incasinare completamente quello che è un orientamento ciclico del del prezzo presumo di avere risposto poi in realtà lo possiamo usare su tutto ma proprio su qualsiasi cosa possiamo utilizzare l'analisi ciclica ma adesso vedremo degli esempi chiaramente che ho già anche tracciato nei giorni precedenti allora io tornerei alle slide adesso vi faccio la carrellata di quello che andremo a vedere poi nella mezz'ora rimanente da un punto di vista operativo come possiamo fare in modo di capire quando è il momento di poter entrare al mercato a favore di ciclo e chiaramente utilizzando il grafico con quello che è ARS ovviamente quello che si vede qui non è farina nel mio sacco quello che è ARS ha chiamato futura linea di demarcazione la futura linea di demarcazione è uno studio appunto di ARS che è l'ideatore dell'analisi ciclica ed è un quarto di ciclo traslato a destra del 50% dell'ampiezza del ciclo principale adesso vedremo come poterlo individuare si presenta sul grafico come una media mobile io parlo in questo caso di metatrader dato da massimo minimo diviso 2 media mobile a un periodo traslata di X candele perché LH diviso 2 non classica media semplice o esponenziale e a un periodo perché in questo caso abbiamo la media che è esattamente sovrapposta al prezzo di per sé da un punto di vista indicativo non serve a niente però adesso vedrete che invece serve moltissimo questa linea viene utilizzata come allarme per l'ingresso a mercato verrà tracciata sulla metatrader quindi suggerisco di utilizzare la metatrader per naturalmente di AVA per fare queste analisi e utilizzerete un foglio Excel che vi manderò anzi che potete scaricare dal mio sito per calcolare la futura linea di demarcazione personalmente non utilizzo soltanto un quarto di ciclo ma utilizzo anche un ottavo di ciclo perché è più reattivo con il mercato la futura linea di demarcazione vi dà in anticipo quello che sarà la direzione del mercato non esiste un indicatore che vi dica in anticipo quando entrare a mercato vi dice dopo che si è verificato un evento quindi è un qualcosa di unico nel panorama del trading ripeto non è un'invenzione è semplicemente un calcolo basato su un ciclo un ciclo in quanto tale non sappiamo come sarà e quindi dobbiamo avere qualcosa che ci anticiperà il movimento stesso del ciclo ma andiamo a vederlo in questo caso sulla metatrader allora e andiamo a piazzarci qui avevo preso il crude oil quello che vedete qua è la linea futura di dimarcazione in questo caso abbiamo un ciclo di 125 giorni ok e in questo caso qui abbiamo un quarto di ciclo che sono scusatemi 125 ore e un quarto di ciclo che sono 31 ore che cosa succede come possiamo lavorare questo strumento che adesso vi farò vedere come andare a inserire normalmente sulla metatrader se non utilizzerete il tool che vi andò a spiegare molto semplicemente ogni qual volta il prezzo chiaramente taglierà dall'alto verso il basso la futura linea di demarcazione avremo un segnale di vendita ogni volta che il prezzo taglierà dal basso verso l'alto la futura linea di demarcazione quindi il ciclo traslato avremo un segnale a rialzo vedete che questo ciclo non è nient'altro che il prezzo è esattamente il prezzo spostato in avanti perché è il prezzo perché è un ciclo essendo un ciclo io mi aspetto che il movimento sia ciclicamente più o meno lo stesso quindi prendo il prezzo nudo e crudo e lo vado a spostare di x candere più avanti vi faccio vedere il foglio Excel che potrete scaricare ed è questo qui cosa dovrete fare qui dovrete andare a inserire l'ampiezza del ciclo o diviso 4 o diviso 8 in questo caso 125 tanto per intenderci lo dividiamo per 4 ci rilascia 31 stiamo nel grafico orario lo mettiamo qui 31 voi andrete sulla media sulla metatrader a creare una media mobile a 16 periodi in che maniera andrete qui andrete su trend andrete su moving average metterete qui periodo 1 scostamento il risultato quindi della traslazione che trovate qui che è 16 andrete a mettere media mobile semplice e median price HL diviso 2 vedrete che vi creerà esattamente la media che mi crea l'indicatore ok proprio in maniera identica e utilizzerete questo questa diciamo media mobile che in realtà è un ciclo come segnale per l'ingresso al mercato non in maniera come si dice a banzai perché come tutti i tool applicati su un grafico se vengono lavorati così a ogni singolo segnale portano a perdere dei soldi non fatevi ingannare dal trading con il senno di poi ok quindi il trading delle slide sostanzialmente perché si vanno a vedere le cose quando sono state completate quindi noi qui potremmo aver avuto magari che ne so anche un falso breakout qui poi il prezzo è tornato giù chiaramente il prezzo traslato si va ad adeguare a quello che è stato il momento del prezzo quindi abbiamo solo segnali positivi è un po' come l'incrocio delle medie mobili prendete due medie mobili le mettete sul grafico andate nel passato non sbagliano mai in realtà provate a fare trading sulle medie mobili prendete solo degli stop loss sull'incrocio di due semplici medie mobili quindi è molto importante che apprendiate questo concetto questa tipologia di lavoro la dovete abbinare chiaramente insieme a quello che vedete qui su trading view poi in realtà c'è un tool da poter rivedere che adesso vi farò vedere quindi se ci ritroviamo in questo caso nella fase al rialzo ad esempio del petrolio noi siamo qua ok nella fase al rialzo del petrolio perché abbiamo 1, 2, 3 cicli al rialzo andremo a cercare naturalmente sulla metatrader dove dovrete andare a fare che cosa adesso vi farò vedere a prendervi gli stessi minimi di trading view e a riportarli qui sulla metatrader per poter identificare quelli che sono i cicli in realtà l'ho già fatto prima i cicli sono questi qua ok sulla metatrader quindi noi qui abbiamo la certezza di ritrovarci in un trend in un ciclo di queste dimensioni abbiamo poi avuto il ciclo successivo che era di queste dimensioni e se lo andiamo a misurare sono praticamente identici il ciclo successivo che era queste dimensioni secondo voi che ciclo ci potremmo aspettare da praticamente dal 17 di febbraio scusate tre giorni fa più o meno no scusatemi da il 2 di febbraio alle ore 17 fino a il 7 di febbraio alle 22 più o meno lo stesso numero di candele che è questo qui in questo caso è 125 candele su H1 quindi ci dovremmo aspettare una fase teoricamente di rialzo più o meno fino alla metà e una fase di ribasso teoricamente più o meno poi fino alla fine se andiamo a tracciare la nostra media mobile che abbiamo tracciato prima a 16 ecco che possiamo identificare i segnali che il prezzo ci avrebbe dato di ingresso allora abbiamo innanzitutto abbiamo avuto un trend a rialzo in questo caso qui ed è fuori di dubbio abbiamo avuto un nostro normalissimo trend a rialzo quindi in questa fase andremo a cercare solo comunque posizioni in favore di trend vero che abbiamo un ciclo in questo caso qui che ha fatto questo movimento non si vede bene il ciclo che abbiamo visto di là e quindi qui avremmo preso operazioni a rialzo qui avremmo potuto prendere operazioni a ribasso un po' rischioso qui avremmo preso operazioni a rialzo qui avremmo preso operazioni a ribasso ovvio vado a prendere un'operazione short quando sono attaccato a una media mobile a una trend line rialzista no se sono un trend a rialzo perché mi ritrovo contro trend il rischio di farsi male è notevole vado a prendere un segnale a rialzo qui quando sono sostanzialmente nella prima fase di ciclo quindi in una fase rialzista in un trend a rialzo lo vado a prendere un segnale long e come la probabilità di essere della parte giusta è sicuramente notevole cosa che non può dare un'analisi tecnica un'analisi tecnica avrebbe probabilmente generato un segnale a ribasso o avremmo scusate mi ho preso un supporto invece di una trend line avrebbe probabilmente generato un segnale a ribasso perché eravamo in un trend ribassista invece l'analisi ciclica ci permette di anticipare un ipotetico movimento del mercato qui che cosa dovremmo fare beh qua il trend è a rialzo il trend del petrolio su H1 ovviamente continua a essere a rialzo quindi che cosa facciamo io tendenzialmente vado a farmi prima l'analisi chiaramente sul daily ovviamente questa media qua sul daily non va bene perché l'abbiamo tracciata su H1 vado a vedere sul daily come sono posizionato da un punto di vista ciclico vi ricordate quando abbiamo praticamente quando vi ho parlato di questo fattore qui ciclo superiore ciclo inferiore supponiamo che questo qui giallo sia il daily noi andremo a lavorare un ciclo su un H1 che può essere un verde se sarò in una fase daily di rialzo ciclicamente non la candela daily è verde quindi cerco su H1 indicazioni verdi perché non è così che funziona a mio avviso il mondo del mercato ma se ciclicamente sono in una fase di rialzo il trend al rialzo il ciclo superiore al rialzo beh mi sembra abbastanza ovvio andare a prendere i segnali che la futura linea di marcazione mi dà al rialzo in questo caso ovviamente su H1 è chiaro fino a qui perché faccio magari un po' di di fatica a spiegare perché ho poco tempo quindi non posso fare tanti esempi a chi è presente questa sera c'è qualche domanda per caso? no per il momento no è tutto chiarissimo allora vado avanti esatto tutti rispondono al momento no sei troppo bravo Paolo ho bevuto un goccio d'acqua ok quindi dicevo cancelliamo questo che poi vi faccio vedere noi ci aspettiamo qua probabilmente una continuazione a rialzo perché appunto siamo nella fase soprattutto nella prima metà del ciclo dove indicativamente in maniera ideale ci potremo aspettare delle operazioni a rialzo fino alla metà di questo ciclo a 120 giorni quindi cosa possiamo fare? facciamo magari una cosa del genere qua ci andiamo a tracciare un'altra nostra linea verticale e ci dice attenzione perché da qui qualora il ciclo dovesse chiudere potremmo andare a cercare operazioni ribassiste potremmo trovarci contro trend cosa vuol dire? che non andrò a cercare posizione a rialzo fino a quando dal punto di vista ciclico ovviamente non avrò altre indicazioni a rialzo che potrebbero essere magari in questo punto in questo punto eccetera mi raccomando sempre con l'ausilio ovviamente di trading view quello che adesso vi voglio fare vedere è un tool che ho fatto creare per la metatrader però prima vi do una piccola chicca in realtà una volta identificato un ciclo su la metatrader potete applicare la futura linea di demarcazione ok e utilizzare sempre quello tanto visivamente vi accorgete se il ciclo è cambiato tanto perché se da così i minimi importanti diventerà così cioè praticamente arriverà da qui a qui ovvio quindi avremo una roba del genere ci sarà evidentemente ce ne saremo accorti prima che questa cosa cioè che questo ciclo è cambiato vi voglio fare però presente capire come identificare i cicli se non avete il tool che adesso vi farò vedere perché qui sono facili cioè qua sono veramente molto belli lo cancello perché sono è regolare il mercato ma a volte ci ritroviamo in situazioni tipiche dell'euro-dollaro euro-dollaro togliamo anche questo che ci siamo ritrovati per tanto tempo su ecco qua qui diventa un po' più complesso anzi sul 10 si vede ancora meglio sul 10 nel passato ecco qui andiamo a trovare dei minimi ciclici è un gran bel casino perché è un gran bel casino perché praticamente il mercato è venuto giù a piombo come si dice dalle mie parti non so se anche da voi si utilizza questo questo termine quindi cosa facciamo anche a l'onda anche anche a l'onda si dice ah ok allora magari l'ora è una cosa forse universale probabilmente no vabbè è una battuta ovviamente ah ok allora tracciamo la nostra trend line naturalmente sui massimi per identificare un un trend al ribasso però cosa facciamo andiamo a tracciare una sui minimi perché perché se io vado a cercare vado a tracciarmi ed è contrario come creare un canale una praticamente trend line vado a incontrare un minimo poi se vado oltre se non ho altri minimi che toccano la trend line non sono probabilmente i minimi importanti o quantomeno sono differenti da questo primo ciclo che io riesco a evidenziare quindi quando poi troverò più o meno questa distanza che combinazione è o non è questa più o meno cosa ha fatto il prezzo ha toccato la media la sì la media mobile la trend line è questo per noi probabilmente potrebbe essere un ciclo andiamo a vedere se era corretto quindi era da questo qui a questo qui e sono 100 candele da qui a qui sono 92 è o non è un ciclo è divento o no un po' più semplice riuscire a andarlo individuare quindi in una situazione ipotetica come questa qui facciamo un esempio subito qua trend al ribasso io i trend li individuo così trend line supporto resistenza lo vado a tracciare qua rottura ritest della resistenza per me questo è diventato un trend al ribasso possiamo aggiungere anche un'altra senza usare stocastico bollinger maccd rsi o chi più ne ha chi più ne metta che tanto ci dicono quello che è successo prima e non quello che succederà poi è una mia personale opinione naturalmente aggiungiamone ancora uno qui siamo in un trend al ribasso giusto misuriamo questo qui sono 100 qui ce ne saremmo aspettati altro 100 guardiamo un po' più o meno nel futuro qua sono 140 qui erano un centinaio però qui c'è stato il passaggio poi magari lo vedremo successivamente da un trend al ribasso a un trend al rialzo si tende a perdere un po' la ciclicità e poi qua comunque siamo molto indietro nel tempo perché siamo nel 2014 oggi siamo invece qui allora facciamo proviamo a fare un calcolo guardiamo se ci avrebbe generato qualche segnale di ingresso la futura linea di demarcazione passo solo un secondo il link per scaricare il foglio Excel se lo recupero il link è questo qui lo posso scrivere qua sulla chat lo vedono anche loro Emanuele secondo me si guarda un po' vediamo qui qui possono scaricare il foglio Excel no allora lo copio io guarda ok perfetto perfetto allora facciamo 100 diviso 4 poi proviamo con 8 vabbè fa 25 faccio con la calcolatrice allora fa 25 ci da 13 come risultato quindi cosa facciamo andiamo qua moving average mettiamo 13 andiamo il via e guardiamo se ci ha generato dei segnali qui sostanzialmente ce ne ha generato solo uno ma eravamo chiaramente al primo ciclo quindi non avremmo mai potuto prenderlo prendiamo in esame questo qua e ci piazziamo qui così e anche qui così ovvio eravamo in una fase talmente a piombo che un ciclo a 4 diviso 4 un FLD quindi una futura linea di demarcazione diviso 4 non avrebbe generato molto però guardate se comunque in trend non ci ha dato degli indizi allora perché vi dicevo di non tradare direttamente la rottura perché il rischio c'è io preferisco tracciare dei livelli di supporto resistenza e tradarmi quelli tanto per intenderci qua ad esempio ce ne poteva essere uno quindi abbiamo avuto un segnale fino a quando il prezzo non rompe comunque il livello non ci vado quindi ho generato uno poi beh rischio di rendimento qui poi lo dovete vedere voi quindi avrebbe generato un altro con un livello che poteva essere questo qui che avremmo anche tenuto per andare a prendere poi un successivo segnale proviamo a andare a vedere un po' nel tempo attuale se avrebbe funzionato con un 4 periodi togliamo questo se no è troppo facile qui avrebbe generato siamo in una fase di rialzo ciclo avrebbe generato sicuramente una fase long qui saremmo andate alla ricerca di fase al ribasso perché eravamo nella parte terminale del ciclo avrebbe generato un ingresso short l'avremmo preso boh nel senso che non potevamo sapere se il prezzo avrebbe continuato se dice così la sua corsa al rialzo seppure il trend del rialzista sarebbe diventato ribassista però utilizzando le trend line semplicemente avremmo sicuramente avuto un indizio che questa cosa qui poteva essere anche accaduta il nostro livello di resistenza prezzo rompe la trend line prova a tornare su non ci riesce per me è uno short si poteva prendere col senno di poio attenzione ma qui è didattica in questo in questo caso con la rottura di minimi importanti che poteva essere cioè di livelli importanti che magari poteva essere insomma mica tanto comunque questo qui come siamo messi nel tempo attuale qui siamo proprio qualche giorno fa avete visto che l'abbiamo tracciato nel 2014 il ciclo qui ha o non ha generato nel ciclo attuale 2 di gennaio quindi ieri un segnale a rialzo di un possibile inizio del nuovo ciclo a rialzo si perché perché il mercato è assolutamente ciclico se andiamo a dividere per 8 quindi a renderlo un po' più attivo più reattivo quindi da 25 100 diviso 8 fa 12 e mezzo direi ci ritroviamo un ciclo a traslare a 6 periodi quindi andiamo a mettere come traslazione 6 diventa molto più reattivo e che cosa fa ci va a generare sostanzialmente gli ingressi al mercato in che maniera in questa maniera qua ci andrà a generare tendenzialmente un ingresso a rialzo qui un ingresso a ribasso qui un altro ingresso a rialzo qui come segnale intendo probabilmente in caso di regolarità uno a ribasso qua uno a rialzo qui uno a ribasso qui uno a rialzo qui uno a ribasso qui e poi alla fine qual è che non prenderemo mai questo qui a ribasso ovviamente questo qui a rialzo ovviamente perché perché sono contro trend andremo a prendere gli altri 6 segnali che il prezzo ci va a generare vi voglio parlare adesso del tool che ho fatto creare sarà disponibile tra pochissimi giorni per la metatrader a una cifra ridicola che è 30 euro di noleggio al mese ok questo tool permette di creare in automatico sul grafico lo vedete rappresentato in questa maniera i cicli a due a trattempi qui un ciclo a trattempi non ho tempo per potervelo spiegare con in automatico anche tracciate le linee di demarcazione quindi vi daranno dei segnali di ingresso al mercato sostanzialmente allora cancelliamo visto oggetto sì visto indicatore cancelliamo questo moving number ok io chiaramente l'avevo già tracciato prima vediamo se è rimasto su euro-dollaro in questo caso è molto regolare vado soltanto scusatemi a togliere quello che ho tracciato prima ok euro-dollaro ho identificato in questo momento questo ciclo qua che è un ciclo vedete da 340 giorni in questo caso io mi aspetto ciclicamente parlando poi chiaramente abbiamo la macroeconomia abbiamo il trend di mercato però euro-dollaro essendo molto laterale potrebbe darci sicuramente delle dell'operatività molto più come si dice più precise ciclicamente parlando cosa facciamo noi vediamo che qui abbiamo la possibilità di andare a identificare facciamo così lo dividiamo 1 2 3 quindi abbiamo 1 2 3 parti cicliche qui andiamo a cercare dei segnali a rialzo qui dei segnali a rialzo qui dei segnali a ribasso qui dei segnali a ribasso in realtà ci sono delle situazioni in cui possiamo andare anche a prendere il segnale a ribasso qui cioè qui su questa fase quando quando siamo lontani da una trendline in questo caso rialzista e utilizzando un ciclo a un ottavo del ciclo come si dice principale vi voglio fare vedere questa cosina qui scusatemi ma io non sono per le slide purtroppo sono più da avanti e indietro allora vi rappresento in questa maniera la teoria della futura linea di demarcazione andiamo a prendere la curva sinusoidale quindi quella originale di Ars è questa qui abbiamo la nostra sinusoide in questo caso è il prezzo quindi lo vado a mettere pieno e andiamo poi a prendere un quarto di ciclo qui siamo in presenza adesso lo faccio un po' come si dice non so neanche se me lo fa fare qui abbiamo un ciclo di caspita 710 bar proviamo a tracciarne uno di 375 giusto 710 355 lo facciamo uguale poi andiamo a contarlo 355 dovrebbe essere più o meno così eseguiamo un po' ci riesco o no? non mi piace più 350 ok ci siamo lo andiamo a spostare di circa un quarto rispetto al ciclo adesso l'ho spostato un po' al ciclo principale allora se quello è il ciclo principale questo è un quarto partiva qui più o meno sarà qua tutto sommato grosso modo del 50% vedete che cosa fa? genera segnali andiamo a cambiare ovvio fatto in questa maniera è un gran casino uno ci mette una vita a trovarlo però qui avrebbe generato un segnale a ribasso qui avrebbe generato un segnale a rialzo qui un altro segnale a ribasso qui un altro a rialzo adesso non l'ho guardato quel prezzo l'ho fatto a caso guardiamo se però ci avremmo azzeccato qui avrebbe beh adesso qui dovrebbero essere intersecati uno con l'altro quindi andiamo a metterlo più su così allora l'ho messo praticamente a caso seguendo il ciclo segnalo a rialzo prezzo che sale segnalo a ribasso prezzo che scende ok? siete d'accordo? qui è sceso 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 ovviamente non l'ho fatto preciso e preciso possibile segnalo a rialzo tirando giù il ciclo ci sarebbe sicuramente intersecato perché non è preciso perché va anche misurato da un punto di vista ciclico l'ampiezza del ciclo ok? sui metatrader questa cosa che è complicata qui la potete fare in maniera molto agevole perché qua vi segna il movimento del ciclo tra l'altro potete fare in maniera molto comoda andare a cambiare la larghezza del ciclo o la lunghezza del ciclo e anche la sua ampiezza perché? perché se io ho un ciclo che ha un movimento medio di 134 candele che cavolo dico di 1095 pip in teoria mi dovrei aspettare un alto movimento ciclico di 1095 pip di estensione ok? quindi lo vado a regolare sul ciclo precedente poi man mano mi vado adeguare a quello che è il mercato attuale quindi vado a tracciare le mie due future linee di marcazione lo facciamo così andiamo a metterlo qui nel passato così guardiamo se nel futuro ha dato risultati oppure se è una scemenza quella che vi sto dicendo allora qui abbiamo avuto un ciclo a due tempi vedete come vi dicevo diviso 4 qui è evidente che non è molto regolare perché? perché quello che vediamo qua non era un ciclo come questo ma era un ciclo fatto in questa maniera quando è che ce ne accorgiamo? la prima fase chiaramente va un po' a perdersi naturalmente ce ne accorgiamo già dopo il primo pezzettino perché? perché se dopo la prima parte di ciclo noi qua ci dobbiamo aspettare una salita c'è stato un po' di tentennamento e qui non coincide allora andiamo a cercarci un ciclo a tre tempi in realtà andando a inserire la futura linea di ammarcazione ce ne accorgiamo a parte che siamo in una fase di lateralità e quindi non si fa assolutamente nulla ma tendenzialmente tende a farci capire come si sta comportando il mercato da un punto di vista dell'analisi ciclica e andremo poi a inserire un ciclo nel nostro caso a tre tempi ma guardiamo se ha dato indicazioni noi abbiamo cosa abbiamo fatto in in prima battuta abbiamo identificato la misura del ciclo la misura del ciclo era di 233 giorni quindi potevamo aspettarci più o meno un ciclo di 233 giorni proviamo a lasciarlo così dove è evidente che questa parte qui è giusta perché è perfetto però ciclo nel passato come diceva il lo spettatore di prima si dice spettatore ha ragione e guardiamo qui come si sarebbe comportato non regoliamo come è fatto un ciclo ok che qui sarebbe più corretto un ciclo chiamiamolo a tre punte anziché a due punte ma mettiamo una linea di marcazione guardiamo se avrebbe generato lo stesso dei segnali utili mettiamo una linea un quarto qui avrebbe generato un primo segnale a rialzio che non avremmo probabilmente preso anche se era proprio preciso perché se lo andiamo a mettere preciso in realtà ci avrebbe generato che cosa un segnale a rialzista un po' troppo spinto io dopo un candelone del genere non vado long aspetto che il mercato mi torni un pelino indietro che sicuramente è la cosa più più intelligente qui siamo comunque o no in una fase di rialzo sì qui ci ha dato o no un segnale a rialzo sì qui avevamo una trendline che andava con quella sotto a comporre un triangolo che sappiamo può essere rotto a rialzo a ribasso sì noi non abbiamo o no avuto la rottura del ciclo a 57 giorni verso il rialzo quindi ci stava che questa esplosione in un triangolo potesse generare un ingresso long avendo anche il ciclo in una fase di rialzo assolutamente sì e quindi avremmo probabilmente potuto trarre profitto da questa indicazione andiamo avanti sempre con il ciclo sballato naturalmente siamo comunque ancora in una fase di rialzo qui ci ha generato un altro rialzo l'avremmo preso probabilmente no perché? perché ciclicamente parlando ci potevamo aspettare una flessione da parte del mercato quindi nel dubbio non vado a prendermi il segnale che in questo caso il prezzo mi ha dato attraversando il ciclo me ne avrebbe generato un altro da questa parte da questa parte che cosa vuol dire? un ingresso ribassista lo avrei preso? no perché ho il filtro del ciclo che è in una fase di rialzo qui e non avrei generato però se vediamo bene non me ne ho raccorto lo ha generato qui qui ha generato no un segnale a favore di ciclo sì come potevamo col senno di poi sempre naturalmente andarla a utilizzare sempre con supporto e resistenza in maniera molto molto banale e andiamo qua guardiamo scusate riduco tolgo questo e riduco l'analisi tecnica va fatta sempre prima di supporto e resistenza se no non si capisce nulla chi è abituato a vedermi il mattino sa che faccio prima vediamo gli ultimi minuti sì giusto riusciamo a concludere sì faccio solo l'esempio di questo poi concludiamo eventualmente una seconda puntata vedete che rottura del livello ingresso long rottura del livello ingresso short c'è qualche domanda mentre faccio la conclusione no per il momento per il momento no non c'è nulla allora io direi che se partiamo bene potremmo organizzare una seconda puntata dove magari faremo esempi un po' più più meno teoria e più esempi la conclusione qual è beh innanzitutto direi di approfittare ragazzi sono due mesi completamente gratuiti di partecipare a due mesi di corso dove quello che adesso avete visto chiaramente è analizzato molto in maniera più approfondita dove andiamo a vedere bene nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche dell'analisi ciclica chiaramente dei mercati e poi vi invito ovviamente quindi il tradingportutti.com o comunque il link che ha messo gentilmente l'Emanuele per poter partecipare chiaramente al corso gratuito e poi vi invito a fare questa cosa qui esperimenti perché l'analisi ciclica abbinata all'analisi tecnica consente di aumentare la probabilità di trovarsi dalla parte giusta del mercato perché unisce l'asse dei prezzi a quelli del tempo per salutarvi vi faccio vedere questo di una piattaforma lasciamo perdere il prezzo siete d'accordo com'è che lo schermo è rettangolare qual è il lato più corto che abbiamo in un grafico è l'asse dei prezzi qual è il lato più lungo che abbiamo in un grafico è l'asse del tempo per me questo qui che ha un'estensione maggiore è sicuramente più importante rispetto a questo che ha un'estensione minore se no il grafico sarebbe fatto così ok rettangolare con il lato più lungo verso l'alto quindi andate ad analizzare già oggi vedrete che vi accorgerete della ciclicità del mercato cercate delle figure AM magari andando a prendere un grafico lineare che si vede molto meglio una figura AM ok andate da cercare provate a fare delle prime bozze di analisi ciclica e vedrete che già da subito avrete dei risultati sicuramente enormi iscrivetevi alla mia newsletter vi aggiornerò quando sarà pronto l'indicatore se lo vorrete utilizzare per migliorare la vostra operatività vi lascio chiedendo scusa per la fretta ma chiaramente in un'ora non è possibile purtroppo fare più di tanto da un più sto di vista sto cercando di tirare fuori la data del prossimo webinar di analisi ciclica che ovviamente abbiamo già impostato ma ovviamente qui il nostro potente sistema è venerdì sera anche per lui se aspettate letteralmente un minuto ve lo recupero nel frattempo anzi comincio a ringraziare tutti quanti per essere stati con noi questa sera grazie a te Paolo pioggia di complimenti grazie a te Manuel eccoci qua allora la prossima data del webinar analisi ciclica è il sempre è mercoledì 8 marzo sempre le 6 e mezza sempre qui 6 e mezza del pomeriggio questa volta lo facciamo a metà settimana così magari riusciamo anche a fare qualche esempio grafico basta sono stufoli complimenti per Paolo te li faccio io Paolo i complimenti grazie a tutti per stati con noi alla prossima ciao a tutti quanti grazie Emanuele ciao ciao